La Galleria dell'Accademia di Firenze ha acquisito nuove importanti opere. Quattro dipinti e una scultura che vengono a incrementare le collezioni del museo. Si tratta di acquisizioni di grande valore che attestano l'impegno di un grande museo attento alla tradizione, ai tesori che possiede e all'arricchimento e alla valorizzazione delle proprie collezioni. I nuovi capolavori presenti alla Galleria dell'Accademia sono quattro tavole di Mariotto Di Nardo, due sportelli raffiguranti coppie dei Santi, rispettivamente Giovanni Battista con Nicola di Bari e Antonio Abbate con Giuliano, e due semilunette, una con l'Angelo Annunziante e l'altra con la Vergine Annunziata e del busto marmoreo ritraente Giovanni Battista Niccolini del celebre scultore toscano dell'Ottocento Lorenzo Bartolini. I nuovi ingressi alla Galleria dell'Accademia sono stati accompagnati da un concerto di musiche rinascimentali dell'orchestra Capella della Torre, direttamente ispirato alla collezione di opere custodite all'interno della Galleria dove è possibile ammirare numerosi dipinti che raffigurano scene di concerti musicali oltre alla ricchissima collezione di strumenti musicali custodita nel museo. Musica dunque per esaltare ancora di più la bellezza delle nuove acquisizioni della Galleria dell'Accademia. Gli sportelli di Mariotto Di Nardo, che erano esposti alla trentesima Biennale Nazionale dell'Antiquariato conclusasi a Firenze, sono stati acquistati dalla Galleria dell'Accademia al prezzo di 300.000 euro. Negli stessi giorni della Biennale, il vice direttore del Museo Fiorentino, specialista di pittura antica, ha identificato le due semilunette con le figure dell'annunciazione come parte terminali superiori dei medesimi sportelli, ritagliate in epoca imprecisata, ma certamente anteriore alla fine dell'Ottocento, quando i quattro dipinti figuravano ancora puntualmente descritti nel catalogo della Galleria Corsini a Firenze. Mentre le tavole con le coppie di Santi erano nell'illustre collezione fiorentina ancora alla fine degli anni 20 del Novecento, delle due semilunette si era persa ogni traccia. La Galleria dell'Accademia è riuscita ad assicurarsi con grande tempestività anche questi ulteriori dipinti ricomparsi sul mercato al prezzo di 170.000 euro. Si tratta di due acquisizioni particolari e importanti per la Galleria dell'Accademia perché specificatamente legate proprio alle collezioni del museo. I quattro dipinti di Mariotto Di Nardo erano insieme alla fine dell'Ottocento nella prestigiosa Galleria Corsini, proprio in Palazzo Corsini a Firenze. Poi sono stati dispersi e sono riemersi in epoca recente sul mercato. Le due coppie di Santi sono state esposte alla recentissima Biennale dell'Antiquariato proprio in Palazzo Corsini. Quindi per ironia della storia o del mercato, per dir si voglia, sono ricomparse proprio nello stesso luogo in cui si trovavano alla fine dell'Ottocento. ed erano state già dichiarate da parte dello Stato italiano, cioè in pratica notificate, come si diceva una volta, proprio soprattutto in virtù della loro importante provenienza collezionistica. Le due cuspidi della parte superiore con la figura dell'angelo e della vergine annunziata erano anch'esse descritte puntualmente nel catalogo della raccolta Corsini sul finire dell'Ottocento, ma di queste si erano proprio perse le tracce. singolarmente sono state, diciamo, sono riemerse proprio negli stessi giorni della Biennale. Forse queste cose non sono del tutto casuali. e allora è stato possibile ricomporre questo insieme, diciamo. Si tratta di dipinti di Mariotto Di Nardo che spettano alla sua fase finale e si datano intorno al 1420. La Galleria dell'Accademia ha esposti altre due opere di Mariotto Di Nardo che però appartengono alla fase iniziale del suo percorso, sul finire del Trecento. Quindi abbiamo modo di fare il confronto, no? Nelle due fasi, diciamo, dell'attività di questo ben noto artista fiorentino, caratterizzato da una lunga carriera, che solo in epoca recente, grazie a studi di anni recenti, è stato riconosciuto come figlio appunto di Nardo Di Cione, cioè un artista fiorentino ben conosciuto, fratello di Andrea Di Cione, cioè di Andrea Orcagna, e quindi appartenente a una delle dinastie più importanti dell'arte fiorentina del Trecento. Il busto di Lorenzo Bartolini, invece del drammaturgo Niccolini, anche quest'altra importante acquisizione del quale la Galleria dell'Accademia conserva peraltro il modello in gesso, si è realizzata anch'essa in tempi molto recenti. E anche in questo caso il museo è riuscito, diciamo, in tempi inconsuetamente brevi, no? per un museo fiorentino, per un museo statale, scusate, a assicurarselo, diciamo, con la collaborazione. Questa è una donazione in realtà, più che un'acquisizione, una donazione da parte dell'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia, con i buoni uffici, la collaborazione dell'antiquario Giovanni Pratensi. I quattro dipinti sono caratterizzati da una finissima e preziosa decorazione in pastiglia dorata, arricchita ulteriormente da una copiosa granitura della superficie, eseguita secondo le indicazioni tecniche descritte da Cennino Cennini. Mariotto Di Nardo fu indicato già dal Vasari come figlio di Nardo di Cione e nipote di Andrea Orcagna. Artista dalla lunga carriera, i cui dipinti più antichi si datano intorno al 1380, è già rappresentato in galleria con un politico in ottimo stato di conservazione, eseguito anch'esso su commissione della famiglia Corsini, e proveniente dalla chiesa del monastero di San Gaggio a Firenze. L'artista sperimentò nella fase matura della sua carriera, periodo nel quale sono state eseguite le opere acquisite dalla galleria, sia i fermenti culturali e stilistici neogiotteschi della fine del Trecento, sia le suggestioni della pittura tardogotica sull'esempio di Lorenzo Monaco e Gerardo Starnina, mantenendo tuttavia con forte coerenza e sperimentata capacità professionale, il suo linguaggio solenne e posato. Il busto del Bartolini è stato invece generosamente donato al museo dall'Associazione Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze. Lorenzo Bartolini deve la sua formazione artistica e culturale al prolungato soggiorno parigino. Tornato a Firenze, divenne uno dei maggiori ritrattisti dell'epoca, con committenze provenienti anche da importanti famiglie europee, prima fra tutti quella di Napoleone Bonaparte. Il legame con la famiglia Bonaparte gli comportò pesanti difficoltà dopo la sconfitta dell'imperatore, per cui i primi committenti furono soprattutto inglesi, spagnoli e russi. In seguito all'esperienza parigina, Bartolini nei suoi ritratti riuscì a coniugare al rigore formale della posa la naturalezza espressiva caratterizzando sentimentalmente ogni soggetto rappresentato. Questa peculiarità stilistica si ritrova anche nel ritratto di Giovanni Battista Niccolini, che lo scultura eseguì nel 1827, l'anno in cui il letterato e tragediografo Pisano porta in scena per la prima volta presso il Teatro del Cocumero di Firenze l'opera Antonio Foscarini. La tragedia, dal carattere esplicitamente politico, da una parte comportò svariate polemiche, dall'altra suscitò il plauso di un nutrito gruppo di intellettuali fiorentini che dettero avvio ad una sottoscrizione pubblica che culminò con il conio di una medaglia in suo onore. Il ritratto del Niccolini, liberamente ispirato dal gesso bartoliniano, esposto nella Gipsoteca della Galleria, fu disegnato da Francesco Lenci e inciso da Giuseppe Girometti. Sono contenta che noi siamo riusciti con questo colpo perché siamo riusciti a riunire quattro pezzi di un altare e li abbiamo acquisiti entro una settimana e questo è già praticamente un miracolo trovare sul mercato delle opere così importanti proprio per la nostra collezione dei fondi oro che è una delle collezioni più importanti a livello mondiale e inoltre queste opere sono anche in uno stato molto buono cioè ci sono le lunette che sono eccellenti e gli sportelli che sono proprio un'espressione anche del lavoro di Mariotto Di Nardo che è riuscito a fare un impasto molto molto preciso molto bello che in genere non si è conservato in una maniera così squisita come lo troviamo in queste opere e Angelo Tartuferi, il curatore dei nostri fondi oro il conoscitore per eccellenza ovviamente è stato molto bravo a trovare queste opere che fanno parte di un altare che già era alla Galleria Corsini noi abbiamo qui la collezione in gesso dei modelli in gesso di Lorenzo Bartolini grandissimo scultore dell'Ottocento e ora abbiamo trovato e questo ci è stato donato e questo è molto importante ci è stato donato dall'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze questo busto in marmo del Niccolini in genere noi marmi non li abbiamo agli fuori di questi grandi ma la collezione del Bartolini ovviamente essendo dei gessi ora abbiamo il modello in gesso e anche il busto in marmo e il Niccolini torna proprio a casa lui era professore all'Accademia delle Belle Arti qui accanto a noi professore per storia e mitologia faceva parte dell'Accademia della Crusca un grande letterato un grande fattore di tragedie e lavorava anche qui ha pure prodotto nel teatro del Cocomero che oggi proprio si chiama il teatro Niccolini e siamo contenti sono veramente fiera e contenta di poter riunire queste fantastiche opere e questo è un bel colpo perché in genere non è che si trovino delle opere di questa qualità e poi in un periodo così breve una dopo l'altra praticamente per poter arricchire queste già eccellenti collezioni Grazie mille 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 Grazie a tutti.